benvenuto alla cavezza investigazioni posso o per bacco topolino ti ricordi di me sono orazio cavezza o ma certo che ti ricordi ero in the fire fighters the barnyard broadcast the band concert quello sì che ha avuto successo non ti ricordi e capisco come tutti del resto così sono finito qui insieme agli altri